Tony Tufano, dal mondo dello spettacolo un grido di aiuto, parliamo soprattutto delle discoteche in maniera particolare, si attendeva una riapertura con regole anche restrittive, ma sembra che non ci sia intenzione da parte del governo di aprire, una situazione davvero difficile per l'intero comparto. Sì, ciao, buonasera a tutti, sicuramente è una situazione difficile per questo settore, con il SILB abbiamo fatto un comunicato dove si chiede più attenzione delle risposte serie in brevi tempi, entro il 10 di luglio si sarebbe dovuto avere la certezza delle date di riapertura per il mondo della notte e per i locali da ballo, e questo non avverrà e se avverrà, avverrà sicuramente non per le, almeno così pare, cosa alla quale ci stiamo ponendo con forza, non avverrà, non dovrebbe avvenire per i locali al chiuso. Questo è un settore che conta più di 3.000 locali con oltre 300.000 dipendenti per un fatturato di oltre 3 miliardi di euro, senza contare tutte le attività collaterali che girano attorno appunto a questo mondo. Non si capisce come mai il protocollo che è lo stesso che dovrebbe essere utilizzato per le crociere, non può essere utilizzato insomma anche per il mondo della notte. Perché tu mi chiedi quali sono questi protocolli? Noi abbiamo caldeggiato il Green Pass, abbiamo fatto delle nel nord Italia, dove tra l'altro io risiedo e svolgo attività appunto di gestione di locali, lo faccio anche sull'Isola Dischia insieme a dei amici, soci, tra volette di Napoli. Abbiamo fatto una prova generale che ha dimostrato che con le dovute sicurezze e con i dovuti protocolli, rispettando i protocolli, si può fare sicuramente più in sicurezza rispetto ad altri contesti la serata. Il Green Pass è stato promesso, è stato promesso ai giovani che già sono sfiduciati attualmente nelle istituzioni, hanno poca fiducia nelle istituzioni, hanno poca fiducia negli enti. Gli è stato promesso, gli è stato detto vaccinatevi, vi daremo il Green Pass, si potranno fare tante cose tra cui potrete accedere ai luoghi da ballo. E invece adesso i giovani si vedono rifiutare anche per l'ennesima volta questa speranza. Questo è un attimino il problema, perché cosa succederà? Mi avviso il pericolo che non si sta capendo, si sta sottovalutando, è che i giovani, cosa che io naturalmente sconsiglio e cosa che io naturalmente alla quale mi opporrò con tutto il nostro gruppo, spingeremo e faremo di tutto per far vaccinare più persone possibile, perché sappiamo che la soluzione per tornare veramente alla normalità è poi quella. Però il problema è che se attualmente lo Stato non va in linea con questa mentalità e con questa ideologia, rischiamo di rimanere scottati da queste esperienze. Il rischio poi grande ovviamente è quello che laddove non si aprano le discoteche in un qualche modo si incentiva il rischio di organizzare poi feste private al chiuso che sono ancora più pericolose perché non controllate. Esattamente, la conclusione è proprio questa, il rischio è proprio che i ragazzi si organizzino in autonomia con feste private non controllate, con assembramenti che naturalmente non si sarà in grado di controllare. Le discoteche, i locali da ballo sono locali atti e indicati proprio per controllare e regolamentare questo tipo di eventi. E il tenerli chiusi non farà altro che, soprattutto in un periodo estivo, aumentare appunto questa situazione di illegalità in particolar modo tra i giovani. Quindi secondo me bisogna, la mia voce è a nome un po' di tutti quelli che rappresentano il settore e vi ringrazio per l'opportunità proprio per sensibilizzare su questo tema le istituzioni e gli enti perché si rischia di creare una situazione veramente poco piacevole e sanitariamente anche non edificante. Grazie. Grazie. Grazie.